certo che stare in un paese è proprio una prigione vorrei proprio scampare andare in mezzo alla natura ok qua si sentono gli uccellini ma non siamo proprio in campagna vorrei con uno schiocco di dita trovarmi in un posto bellissimo oddio che bellino qui Ma buongiorno! Ora chi vedrà questo posto si innamorerà del posto, guardate un po' qua, com'è bello non c'è far niente e venire qui in mezzo alla natura, è un relax immenso. Grazie! 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 Grazie!